Assieme ad un complice che è riuscito a fuggire, ha tentato di rubare da un centro commerciale di Sarmeola di Rubano bottiglie di superalcolici per 500 euro. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 32enne rumeno residente a Padova. Occultati i liquori in alcuni sacchi e tolte le placche antitaccheggio, il due aveva tentato di allontanarsi passando per l'uscita senza acquisti, ma non è passato inosservato come si aspettava.